Sono Sana Nader nel Dipartimento di Lingue, Letterature e Romanze e sono qui con professore Luigi Weber dell'Università di Bologna per parlare del suo libro Romanzi del Movimento, Romanzi in Movimento, la narrativa del futurismo ed intorni, uscito nel 2010. Benvenuto professore Weber. Grazie mille. Allora con la prima domanda, che cosa significa movimento nel contesto del Novecento e soprattutto nel contesto del futurismo? In altre parole, in che modo si distingue la nozione del movimento nel suo libro? Ovviamente ci sono due significati, due accezioni della parola movimento che infatti è ripetuta nel titolo. Una è quella che stacca il movimento futurista dagli altri gruppi di intellettuali, di artisti che si erano già manifestati nell'Ottocento e nei primi del Novecento e è caratterizzata proprio a mio parere dalla figura imprenditoriale di editore di Marinetti, che ha un atteggiamento molto moderno, molto prossimo a quello che appunto potremmo definire un imprenditore e che lavora, inventa in qualche misura delle strategie da industria culturale, che noi oggi potremmo definire quasi di marketing. Questa dimensione è nello stesso tempo affascinante nella sua modernità perché appunto cerca di conquistare il consenso del pubblico, delle masse e però ha qualcosa di singolare perché è in qualche modo un'impresa in perdita. non ricerca il successo commerciale, tanto è vero che la gran parte delle opere dei futuristi erano stampate e distribuite gratuitamente. Però Marinetti ha questa grande capacità di organizzare eventi, serate, scandali in qualche modo. Quindi c'è questo aspetto assolutamente moderno, contemporaneo potrei definire, dell'organizzazione del movimento futurista che ne fa qualcosa di assolutamente novecentesco e diverso da tutto ciò che era avvenuto prima. L'altro concetto ovviamente è quello del movimento come viaggio, come spostamento nello spazio, che le grandi innovazioni tecnologiche, la locomotiva, l'automobile, l'aeroplano avevano portato sulla scena e quindi c'è un'idea di viaggio come esperienza del viaggio e racconto del viaggio, che ovviamente è stato lungamente studiato per le sue ricadute sulle arti. E quindi è curioso che, io mi domandavo, questa cosa così studiata a proposito dei dipinti, delle arti plastiche, della poesia e perfino del teatro, non fosse stata nello stesso tempo studiata per quanto riguarda i romanzi. E quindi mi interessava osservare in che modo i romanzi manifestassero questa... non soltanto dal punto di vista dei contenuti, quindi non soltanto parlando, ma proprio dal punto di vista delle forme. Questo era l'aspetto secondo me più interessante. Sì, infatti il suo libro sembra essere una rivendicazione della posizione del romanzo all'interno di questo movimento e volevo chiederla perché la forma del romanzo è propizia soprattutto in questo contesto e la struttura del movimento. Intanto perché, vorrei dire, il romanzo contiene il tempo e se il romanzo dell'Ottocento, quello storico, ma non soltanto, sembrava soprattutto dominato dall'idea di contenere il passato, di rappresentare il passato, e il romanzo naturalista, quello con cui anche si era formato il giovane Marinetti, che amava molto Zola, invece tendeva a rappresentare il presente, facendo già in qualche modo a gara con la fotografia, ecco che il romanzo futurista in qualche modo cerca di rappresentare il futuro, ma non nel senso che racconta i futuri. Ci sono alcuni casi, ma non sono quelli più interessanti. Ci sono casi di romanzi pseudo fantascientifici, un po' alla Wells, alla Verne, ma racconta il futuro perché è un oggetto instabile, è un oggetto in trasformazione dinamica, non è mai uguale dall'inizio alla fine. E questo a me sembrava uno dei motivi per cui la narrativa futurista fosse degna di essere studiata e non lo era stata adeguatamente nel passato. Anche adesso che da poco abbiamo festeggiato i cento anni della nascita del movimento futurista, ci sono stati tanti studi, ma pochissimi su questo aspetto. E quindi da un lato io vedevo una carenza negli studi e mi sembrava interessante provare a colmarla, dall'altro mi sembrava che quel genere avesse, malgrado i tanti proclami di Marinetti contro il romanzo, Marinetti in realtà ne scrive molti e non è l'unico. Quindi i futuristi non si limitano ad abbandonare il genere romanzo pur dicendo più volte che è morto e che è sorpassato, ma ne formano un'altra foggia, diciamo così. Lei fornisce una lunga lista di scrittori, ma anche di opere, di romanzi da studiare. Potrebbe spiegare le sue scelte perché lei ha deciso di studiare romanzi poco studiati? La lista è effettivamente lunga e ho cercato di darne conto nella bibliografia, nelle note. La maggior parte di questi romanzi sono in gran parte dispersi, nel senso che non sono mai più stati ripubblicati e quindi non dico che se ne è persa anche la memoria, ma quasi, a parte pochi studiosi non sono affatto noti né in Italia né all'estero. Quindi il primo passo per me è stato quello di cercare di leggerli, ritrovarli il più possibile, cercare di vedere se esisteva una tipologia in qualche modo comune. Poi mi sono accorto che non c'era una tipologia assolutamente comune e quindi ho preferito scegliere alcuni dei romanzi più irregolari, più rappresentativi di questa dinamicità delle strutture di cui ho parlato prima e nello stesso tempo ho cercato di lasciare sullo sfondo i pochi romanzi più noti, quelli già ampiamente studiati e noti, diciamo così alla comunità scientifica. Mi sembrava interessante quindi da un lato prendere dei modelli ognuno nella sua singolarità, quindi senza pretendere di dare una tipologia definitiva e quindi in sostanza ogni capitolo o quasi ogni capitolo del libro ha un romanzo rappresentativo di un certo tema o di un certo tipo di sviluppo. Nello stesso tempo però insieme, intorno a fargli da corte, ho inserito notazioni su altri romanzi magari meno importanti, a loro volta meno rappresentativi e che quindi mi sembrava inutile approfondire dettagliatamente, anche perché il libro se non sarebbe venuto lunghissimo. Io ho studiato una cinquantina di romanzi principali e altri minori, ma quelli che analizzo di più sono cinque o sei. Bene, allora oltre all'analisi che lei fa dei romanzi c'è anche una grande parte dedicata ad un tipo di background, no? Del rapporto fra il futurismo e la guerra, la tecnologia, altri scrittori che hanno influenzato un po'. Infatti la prima metà del suo libro è consacrata a questa cosa. Potrebbe spiegare perché ha deciso di organizzare il libro in questo modo invece di accennare questi riferimenti all'interno dell'analisi. All'interno, certo. Ma devo dire che a muovermi è stata una sorta di forse ambiziosa idea di creare un libro che fosse in qualche modo omologo, simile al mio oggetto di studio. Quindi mi verrebbe da dire un libro plurifocale, un libro, qualcuno direbbe cubista e io preferirei dire futurista, e quindi dinamico. Un libro non con una sua chiara sequenzialità ma fatto a intarsi, a tasselli. questa scelta ha fatto sì che io costruissi le varie tappe del libro secondo uno sviluppo che, nella mia idea naturalmente, diventa del tutto evidente soltanto alla fine. Come dire, ci sono alcuni macro temi che sono appunto la questione del viaggio e della tecnologia, la questione del rapporto con la letteratura e l'immaginario fantastico ottocentesco e poi appunto l'idea del primo grande conflitto mondiale, che gradualmente si sommano l'uno con l'altro. Quindi ho pensato che ogni capitolo avesse una sorta di sua autonomia e poi però che questi brani staccati andassero a costruire una sorta di collage. Ecco, uso una parola, un montaggio in qualche modo. Quindi ho cercato da un lato chiedere alla pazienza dei lettori uno sforzo ulteriore, però mi sembrava più interessante piuttosto che separare nettamente tutta la teoria da una parte e tutta l'analisi dell'altra o addirittura fare soltanto una serie di, come dire, medaglioni, ogni capitolo l'analisi di un testo e disseminare la teoria all'interno. Ho cercato di creare una costruzione a contrapunti appunto. Quindi il percorso, in sostanza, ripercorrendolo rapidissimamente, va da un'idea di storia dell'editoria iniziale e quindi appunto quello che dicevo, il modo di operare di Marinetti, non soltanto coi suoi autori ma anche proprio quelle case editrici, con la forma del libro, il modo di reinventarla. Poi ho cercato di ricostruire come un genere letterario, un modo letterario di grande successo nell'Ottocento come il Fantastico non scompaia letteralmente nel Novecento ma, come dire, diventi sotterraneo ma continui a fecondare queste immaginazioni che sono appunto rivolte al possibile, ai futuri utopistici o antiutopistici a volte. E poi, come tutto questo, stimolato da una parte appunto da quella tecnologia che rende possibile l'immaginario, quella tecnologia che rende possibile ciò che prima si credeva irrealizzabile, finisca tutto tragicamente, drammaticamente nella Prima Guerra Mondiale, dove la grande industria poi trova una sua terribile applicazione pratica e dove i futuristi in realtà si trovano molto a loro agio. Molte grazie per questa conversazione. Grazie a te.